Sono molto contento ed entusiasta per questa riconferma. Sono consapevole di quanto importante e delicato sia questo ruolo. Bisogna lavorare in modo sinergico per contrastare i fenomeni criminosi e proseguire nei progetti e nelle iniziative volte a promuovere la legalità su tutto il territorio nazionale. Così il presidente del Consiglio regionale della Basilicata Cicala che al termine dell'assemblea plenaria della conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome è stato riconfermato alla guida del coordinamento commissioni e osservatori sul contrasto della criminalità organizzata e promozione della legalità. La plenaria ha dato mandato al coordinatore di scrivere al presidente Draghi e alla ministra Gelmini perché il governo ponga un'attenzione particolare ai ristori per le attività economiche nelle cosiddette zone arancioni e per un'azione congiunta comune a quella dei presidenti delle regioni nell'affrontare la situazione epidemiologica ed economica in atto.